Siamo in un momento storico molto interessante, in cui se devi vendere le cose va bene dire tutto, soprattutto nell'ambito del gaming, l'abbiamo visto per esempio l'altro giorno con leggende Pokémon Arceus, che giocone! Quindi ecco, facendomi ridere tutto questo mondo abbastanza particolare, ho pensato benvenuti su Watch Watch Italia, gente, facciamo una top 10 delle 10 più grandi promesse infrante su ciò che sarebbero potuti essere videogiochi prima della loro uscita da parte dei loro sviluppatori e ovviamente cose che non sono mai state. E crolli mediatici conseguenti, anche piuttosto divertenti, ma prima di incominciar, mi raccomando, gente, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime top, soprattutto a tema videoludico in questo caso, e se volete fate un salto sul mio profilo Instagram che trovate qua sotto, ci si diverte! Alla numero 10 abbiamo 16 volte i dettagli in Fallout 76, disse il Todd alla presentazione Bethesda E3 del 2018, incredibile! 16 times the detail! Ma 16? Sono tantissime! 16 volte i dettagli vuol dire che ti diverti almeno 16 volte di più! Esatto! La cosa bella però è che si scordò di dire una cosa, Todd Howard, 16 volte i dettagli rispetto a cosa? Cioè, quindi in effetti lui non lo dice, è considerabile come promessa infranta e cattiva pubblicità, non lo so mica se non c'è il metro di paragone. Magari intendeva 16 volte i dettagli rispetto a Space Invaders, il che ci sta è, effettivamente gli concetto che forse anche 17 volte i dettagli rispetto a Space Invaders addirittura. 16 magari rispetto a Matt Indueto, se ci stiamo riferendo a Fallout 3 o 4, adesso no! Però, alla numero 9, ogni cosa detta da Peter Molino sui suoi fable, anche noto nel campo come The Man Who Promised Too Much, di una cosa a Molino va dato atto, che riuscirebbe a vendere a parole anche Superman 64. Però, i suoi giochi della saga fable, in particolare il 2, mamma mia, li promosse come la seconda venuta, come dovessero essere la vita reale, una cosa che manco nel 40.000, lui l'aveva realizzata nei primi del 2000, va bene. Se piantavi un albero, disse, l'avresti visto crescere nel tempo. Se scrivevi il tuo nome nel legno di quell'albero, l'avresti visto dieci anni dopo. Il tuo PG l'avresti visto invecchiare. Avresti potuto fare dei figli che ti avrebbero sostituito da grandi se il tuo personaggio fosse morto. E la migliore, me la ricordo ancora, se fosse uscito. Nel tuo personaggio soltanto di giorno, ti saresti abbronzato del brutto. Ma che... E la cosa divertente è che di queste cose non era vera ma manco un quarto. Ma con qu... Perché? Alla numero 8. Niente microtransazioni in Crash Team Racing Nitro Fueled. Ehi, invece ci stanno. Ma non è stata una semplice bugia. Cioè, c'è stata proprio tutta una tattica di marketing attesa dietro perché nel 2018 la Activision, in varie interviste con gli sviluppatori, fece dire ai suoi minion umani che il gioco, per carità, non avrebbe avuto microtransazioni a questi interni perché era un periodo in cui questo genere di cose stavano rovinando il mercato. Quindi il gioco esce, le microtransazioni... Non ci sono. Le recensioni positive, quindi, fioccano come non mai. Avevano mantenuto le promesse e quando sono arrivate tutte, le recensioni, poi, e tutti, quindi, hanno acquistato il gioco e vengono inserite le microtransazioni all'interno del gioco. Cosa? Alla numero 7. Warcraft 3 Reforged. Sarà come Warcraft 3, ma meglio. Al BlitzCon del 2018 la Blizzard la sparò grossa con questa frase. Ma può succedere? Voglio dire che un gioco in realtà faccia schifo. Ma almeno lascia in pace chi rimane a giocare a quello vecchio. Perché Warcraft 3 aveva ancora una community della quale, tra l'altro, faccio parte allegramente. Bella, viva. Ecco, fu promesso che a chi non interessava il nuovo non sarebbero state rotti i cojoni. Ma poi arrivò un aggiornamento obbligatorio alle meccaniche di Reforged per renderli compatibili i due giochi e soprattutto tutte le mod del gioco, e Warcraft è sempre stato storicamente moddatissimo con una comunità di modder vivissima, sarebbero legalmente appartenute alla Blizzard. Ma non lo so, vuoi anche venire a pestarmi a casa mia e a darmi fuoco all'abitazione? Alla numero 6, le promesse cinematiche di Bungie con Destiny. Bungie che tra l'altro, non so se sapete, ma è stata acquistata ieri dalla Sony per 4 miliardi. Sony giustamente sudando, freddo. Oddio, Microsoft sta pigliando tutto, pigliamo qualcosa anche noi altri. Destiny, quando uscì, le promesse erano il futuro. Avremmo avuto un gioco cinematografico, un'avventura complessa da sci-fi, alto budget, hollywoodiano e un multiplayer rivoluzionario. Anche qui per i trailer cinematic che mentirono spudoratamente, fingendo fosse grafica in game, in realtà il gioco era all'inizio, almeno poi l'hanno un po' aggiornato. Vai lì, ammazza l'alieno, vai di là, ammazza l'alieno. Scusa, non è che potresti ritornare lì? C'è un altro alieno da ammazzare. È un'avventura molto stratificata e profonda, sì sì. Alla numero 5, la Square e la Crystal Dynamics vogliono i soldi. Giustamente, no? Con Marvel's Avengers, lo sapete come si fanno i soldi? Sì, direte voi, vendendo le copie del tuo gioco. Esatto, però c'è un problema, quale? È che le copie non le vendi. Se il gioco fa cacare e non hai pagato prima i recensori per farne parlare bene, quindi non guadagni. Oh no! E ora, e ora quindi sei costretto, dopo aver detto in pre-release che tutte le cose acquistabili con i soldi veri in game sarebbero state soltanto cosmetica, mettere i punti esperienza in game acquistabile, rendendolo di fatto un pay to win tristissimo con l'unica ragione di riguadagnarci sopra ad andare in perdita netta. Alla numero 4, Gearbox e Sega ci finiscono in tribunale per Alien Colonial Marines. E voi immaginatevi una giuria americana col giudice Bene, prossimo caso, lo Stato contro Alien Colonial Marines. Accusa di falsa pubblicità, come si dichiara l'imputato. Innocente, vostro onore, era veramente grafica in game! Silenzio in aula! Un trailer è quanto basta a un gioco, che poi non è come quel trailer, per far capire a tutti che quello che era mostrato non era veramente motore di gioco, e soprattutto la Gearbox. Dette lo sviluppo, poi, senza dirlo sotto banco, un altro studio assolutamente poco affidabile, finendo il gioco in tempi brevissimi, soltanto per farlo uscire. Non si capisce però sinceramente bene come pensavano che ste cose non sarebbero venute a galla, ma anche normalmente quando il pubblico poi avrebbe giocato a un gioco che faceva semplicemente caca. E poi facendosi due domande... Alla numero 3, il finalone di Mass Effect, come fu presentato. Ora, io lo sapete, non ho mai avuto troppi problemi con Mass Effect 3, né il finale, perché mi ha sempre fatto ridere poi la critica del... Ah! Il finale di Mass Effect, dopo tutte quelle decisioni, nei tre capitoli, ha una scelta A, B, C... Eh, sì, cioè, ma... In qualche maniera doveva finire. Poi elencatemi dei finali nei giochi che non siano effettivamente delle non scelte, oppure delle scelte A, B, C, o magari anche D, E, ma poi finisce lì perché un gioco in qualche maniera ha da finire. Che volete? La vita reale? Cioè, è una storia che vi viene raccontata e poi finisce. Ma se non vuoi problemi, in effetti, non dire niente, come non fece Casey Hudson, il capoccia della Bioware, che disse in conferenza preuscita, sì, il gioco non finirà con una scelta A, B, C, e poi il gioco finisce con una scelta A, B, C, ma sei un deficiente. Allora, e alla numero 2, No Man's Sky sarà bello, disse Sean Marre sul suo gioco. Ora, premessa 1, adesso No Man's Sky è veramente figo per alcune cose, è pieno di roba. E premessa 2, certo che doveva dire, Sì, il mio gioco farà cacare. Cioè, se vuoi vendere la regola numero 1, è sempre mentire di fronte all'evidenza, soprattutto se sei un indipendente che ci ha speso la vita e si rende conto poi di aver fatto una porcheria. Cioè, o ti getti in un vulcano attivo, oppure sorridi e fai buon gioco come lui, ma almeno non promettere cose divine. Cioè, dire che sì, sarà carino, va bene, ma non sì, sarà la rivoluzione. Un mondo ricco, infinito, autogenerante. Calma, calma. Lo sai che il tuo gioco è una merda. Perché vuoi esagerare? E alla numero 1, tutto Cyberbug 2077, mi dispiace. Ma come concludere? Cioè, ci stanno ancora i paladini della CD Projekt Red o è stata una cosa che è andata di moda l'anno scorso? Nel senso, possiamo tutti, no, renderci conto a questo punto, a distanza di un anno e un po', che il gioco, tra l'altro, ancora oggi, meno che non hai mai giocato a nulla, mai letto un libro, mai visto un film, mai sentito di una cosa chiamata ritmo di sceneggiatura in vita tua, non è un bel gioco, ancora. E la CD, in una delle, se non la più grande sopravvalutazione della storia del gaming, in 12 anni, tirò fuori un prodotto ignobile full price, promettendo l'avvento dell'RPG del secolo, sotto tutti i fronti, la gente si fidò e alla fine si capisce perché, e lo continuerò a ripetere allo sfinimento, tu non devi preordinare i c***o di videogiochi. che sawели e dare i c***o di una persona chiamata la persona chiamata che scriva found il guiao si sia